Sì, eh sì. E così è venuto fuori in uno colpo, guarda. Sì, 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 ero piano piano, dieci giorni fa, sì, piano, piano, piano. E adesso subito fuori, è forte anche, guarda, anche forte. Sì, è veramente bellissimo. Sì, Armai, è vero? Armai è competitivo ancora. Sì. Però è talmente luminoso che non riesco a guardarlo. Sì. 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 Sì.